Che cos'è l'arte? Hai mai guardato oltre quello che studi a scuola per chiederti perché? Perché tutte quelle persone hanno dato la loro vita al disegno, o alla scultura, o alla poesia? Perché l'arte è vedere con gli occhi dell'artista, è dare forma ad un'idea, a un pensiero, a una visione del mondo, e rendere visibile quello che è astratto. Arte è tutto ciò che sta attorno a te, la musica che ascolti, i vestiti che indossi, le foto che scatti. E' arte ciò che c'è di gradevole in una parola, in un suono, in uno schizzo su un foglio. L'arte è la bellezza. Che cos'è la poesia? La poesia è l'arte delle parole. E' la soluzione per coloro che, da dietro una scrivania, da una cella o da una trincea, non trovano le parole capaci di esprimere il significato che cercano. Le scrivono in versi. La poesia non è un romanzo. Non racconta una vicenda qualunque. Racconta una storia così forte che non ci sono altri modi per descriverla. Non è una serie di righe composte in modo matematico su delle sillabe. E' un'espressione delle emozioni. La poesia racconta quello che siamo. La poesia racconta è la sua racconta dell'attenzione. Grazie a tutti